benvenuti a questa prima puntata del processo alla regata abbiamo inventato una nuova serie abbiamo degli ospiti siamo a capri rolex capri sailing week nome che torna una località che torna forse non è mai andata via ma quest'anno ha una nuova anima possiamo dire allora intanto vi presento gli ospiti roberto motto la diamato è il presidente del circolo del re me della vela italia di napoli nico reggio è il presidente da pochi da poche settimane da qualche mese dello yacht club italiano matteo berlingeri è il vice presidente dello yacht club italiano e beppe zauli velista sono tutti po velisti però beppe zauli insomma lo vediamo anche dalla faccia in carta pecorita dal sole il presidente dello yacht club sanremo è il più lontano dal punto di vista geografico cominciamo invece da più vicino in qualche modo un po padrone di casa roberto motto la circolo italia questa rolex capri sailing week 2017 è un nuovo inizio l'abbiamo già detto varie volte e utilizza anche come traino una regata storica la tre golfi che quest'anno ha fatto la sessantatresima edizione spiegaci un po come dalla tre golfi si vuole rivitalizzare la capri week la rolex capri sailing week ma più che la tre golfi rivali scusate è un modo per rilanciare le due regate insieme attraendo l'una e l'altra equipaggi e barche diverse in alcuni casi sono hanno partecipato all'una e all'altra però speriamo un po come lo yacht club italiano negli anni ha fatto con la giraglia con santro per con giorni di regata santro per il fondo è un po la stessa formula che già anni fa con lo yacht club di capri copiamo ai nostri amici e gemellati dello yacht club italiano la parola a questo punto la parola copiare subito è stata identifica però è una formula che funziona perché in fondo molti equipaggi a molti piace fare molti soprattutto gli armatori piacciono fare ora molto le regate lunghe le costiere e quindi poter avere l'opzione delle regate sulle boe qui in un campo che è bellissimo perché poi lo conosciamo tutti molto bene sono anni che a capri sono passati i migliori equipaggi lo yacht club di capri ha coadiuvato nel passato con lo yacht club costa smeralda non dico nulla di poco gentile nei confronti di altri ma certamente in qualche modo si è nel tempo ben ben costruito questo corsi e ricorsi della vela hai detto intanto yacht club capri che un altro dei circoli organizzatori insieme al circolo canottieri aniene quindi poi avremo anche altri ospiti ovviamente in questo processo alla regata che continuerà praticamente a ciclo continuo e lo vedrete su seli tv con tutti i vari ospiti che avremo corsi e ricorsi perché hai detto di questa febbre di questa passione per le regate lunghe dico corsi e ricorsi perché ai tempi in cui qui a capri si svolgeva la famosa settimana velica invece andavano di moda le regate corte cioè diciamo quelle tra le boe sostanzialmente poi è venuta invece la voglia delle regate lunghe per tante ragioni tra i corsi e ricorsi intanto come vedete i nostri ospiti hanno tutti dei bei bicchieri in mano perché siamo allietati diciamo così dalla partnership dei vini donna fugata e quindi ci fa anche piacere grazie tra i corsi e ricorsi nico reggio yacht club italiano è stato citato questa voglia di copiare un pochino la giraglia e la gira gli a wick che la precede a centropè tu come vedi da ospite interessato e insomma da circolo coorganizzatore questa rolex capri seli week 2017 certamente una cosa interessante trasferire anche in queste acque belle splendide intorno a capri un evento che è nato e cresciuto intorno a centro europei che un'altra località prestigiosa quindi è piacevole il fatto di allargare un po l'interesse delle regate e costruire degli eventi intorno a una regata lunga storica noi l'abbiamo costruito intorno alla giraglia e sono stati bravissimi qua a inventare o perlomeno realizzare un prodotto simile per attrarre su questi mari bellissimi come dicevo tutti quelli che magari non riescono a navigare fino al mer ligure quindi sono decisamente felice di questa novità e poi trovo che sia bellissimo al posto parte l'amicizia e i buoni rapporti con con gli amici dell'italia e certamente gli otto e capri del resto siamo nella loro sede in questo momento bellissima terrazza ben trattati comodamente seduti il vino bianco e buono quindi bellissimo fantastico presidente non posso non farti fare una battuta su queste prime settimane come abbiamo detto prima primi mesi alla guida del yacht club più antico d'italia insomma cosa hai trovato quello che ti aspettavi sei pienamente nella stai vivendo delle giornate importanti perché qui c'è da rivitalizzare anche il circolo comunque quali sono un po le tue primissime sensazioni sensazioni positive perché l'impegno l'ho sottoscritto insieme ovviamente a tutti quelli che fanno parte di questo gruppo dirigenziale tra le quali c'è anche Matteo Berlingeri qui vicino vicepresidente impegno che abbiamo affrontato con determinazione convinzione certezza di essere nelle condizioni di fare quello che ci è stato chiesto e stiamo lavorando direi molto bene facendo tante cose anche nuove e rielaborando tanti dettagli che forse non sono stati un po trascurati nel passato voglia di fare ce n'è tanta ne abbiamo ancora tantissimo ovviamente e questo è il nostro principio poi vedremo la prosecuzione tanto il primo mese e mezzo l'abbiamo passato. Grazie, grazie Nico torneremo ancora da te, rimaniamo a Genova e allo Yacht Club italiano perché come hai detto bene tu abbiamo tra gli ospiti anche Matteo Berlingeri che è il vice presidente dello Yacht Club. Matteo, prima volta a Capri e che cosa stai vedendo in banchina? prima volta a terra nel senso che sono venuto tante volte però sempre partecipando alle regate quindi forse questa è la prima volta completamente senza cerata e con la camicia le impressioni che tu hai di questa regata sono quelle che ti aspettavi cioè da anche dirigente di uno yacht club quindi regate ne hai viste tante e quello che ti aspettavi l'ambiente il numero di barche il coinvolgimento dei velisti e un po il contorno? Ma assolutamente sì il format è quello giusto e quello che serve intanto il format WIC che è molto importante sappiamo tutti benissimo come ormai è difficile spostare gli equipaggi convincere gli armatori cioè il vero trigger di tutte queste operazioni è riuscire a incastrare gli avvenimenti nei momenti nei mesi nelle settimane giuste e per attrarli bisogna avere una serie di focus ben precisi la località bella il regolamento di regata giusto e quindi direi che a Capri c'è tutto questo assolutamente a Capri c'è tutto Beppe Zauli ti abbiamo coinvolto sia perché sei presidente di circoli quindi qui abbiamo tanti dirigenti di circoli e di yacht club e sia perché da regatante sei un po l'altra sponda no quindi sei quello che può anche valutare giudicare se quello che è stato detto fino adesso a proposito di questa regata e dei suoi contenuti sportivi e non solo sportivi è vero stai trovando qualcosa di diverso in questa Rolex Capri Sailing Week? Prima di tutto devo dire due giorni e tutti i due giorni ha fatto due regate stupende il comitato è stato veramente in gamba ad altezza ha fatto delle belle regate belle partenze dunque questa è già una cosa positiva che non sempre si trova nei campi di regata che giriamo per il mondo dunque complimenti al comitato di regata il nostro circolo in questa occasione è venuto giù da Sanremo con cinque imbarcazioni per far capire quanto ci teniamo questa regata e per invogliare la nostra gente a venire a fare delle regate fuori dai nostri mari e portarli in posti stupendi come questi bella questa che ha detto lui ha detto l'equipaggio cinque barche da Sanremo concludo con una domanda provocazione a tutti e quattro state poi con tutti i vari altri processi alla tappa che seguiranno però siete dei dirigenti sportivi e di yacht club importanti abbiamo parlato di regate in crescita abbiamo parlato di partecipazione di barche che vengono da lontano la giraglia riunisce barche che vengono anche da fuori dall'italia quindi la domanda diciamo provocazione un po per tutti quanti è cosa si può fare cosa si sta facendo in che direzione sta andando la vela in italia come eventi per cercare di crescere ulteriormente la facciamo in in ordine come siete seduti cosa si fa si cerca cosa si cerca di fare nel senso che ci sono tantissimi eventi e forse sono anche molto dispersivi bisognerebbe riuscire a avere un maggior coordinamento tra le varie strutture tra le zone tra le aree geografiche proprio per evitare delle sovrapposizioni che poi sono ovviamente portano un minore numero di partecipanti a ciascun evento quindi cercare di stare attenti sulla sovrapposizione ovvero non costruire anche troppe regate o eventi para regate perché sono anche gli eventi che si nascondono dietro altre cose per portare semplicemente flotte partecipanti quindi quello è un principio che forse dovrebbe più essere governato dalla federazione italiana prima di dare la parola a roberto rolex capri rolex giraglia quindi stessa in qualche modo progenitura la rolex giraglia quest'anno ci puoi annunciare qualche novità qualche particolarità o siamo nel solco della tradizione direi assolutamente solco della tradizione e l'allargamento della flotta cercando di portare delle barche particolari stiamo cercando in tutti i modi di trovare un'assimazione per il nuovo my song visto le dimensioni sempre più larghe grasse alte lunghe non è facile trovare sistemazioni in porti così piccoli per cui anche in ottica di capri cioè a guardare anche a quello che sarà il domani sono barche sempre più grandi adesso tronchetti provera ha fatto anche il 145 piedi quindi se viene anche lui insomma non basta più sentro bene roberto la domanda di prima io concordo con nico assolutamente questo è un aspetto che peraltro noi soprattutto con lo yacht club italiano abbiamo sempre molto curato abbiamo negli anni in cui c'era pirelli zegna pirelli a portofino e poi si scendeva qui a capri noi con lo yacht club di capri e poi c'è la costa smeralda abbiamo sempre tentato di non di concordare le date i tempi trasferimenti perché oggi però purtroppo spesso ci sono troppi eventi che vengono fuori e che creano il conflitto e quindi creano disagio per chi organizza i regatanti che vorrebbero dividersi in qualche modo queste regate hanno una peculiarità per quanto ci riguarda noi lo diciamo sempre per la tre golfi sono un po lo specchietto per la lodo le la gente vede delle bellissime immagini delle bellissime foto dei gli articoli che la stampa dedica la televisione a tutto questo ma i nostri circoli come tutti quelli in italia iscritti alla federazione hanno l'obiettivo di promuovere la vela e soprattutto la vela giovanile noi veniamo da purtroppo da anni e lo dico da da napoletano il nostro circolo ha avuto la fortuna per molti anni di rappresentare la nazione alle olimpiadi a fasi alterne purtroppo da qualche tempo che non riusciamo ad esprimere noi sia napoli che il nostro circolo degli atleti che possono mirare a qualcosa del genere puoi dire no a ragion con veduta visto che sei stato ai giochi olimpici e quindi tu dici regate come questa di capri specchietto per la lodo le diciamo così momenti culminanti per attrarre l'attenzione anche dei medi e quindi anche dei giovani soprattutto dei giovani pensate quante cose ci sono dietro a una regata quanti pensieri fanno poi gli organizzatori perché alla fine uno qui arriva si ormeggia fa la sua regata in realtà c'è tanta ricerca tutto sommato questa parola che va di moda c'è anche da parte degli organizzatori delle regate stessa domanda anche per te direi abbastanza sulla stessa linea quindi assolutamente condivisione di calendari che è fondamentale per ottenere poi il successo e i numeri che servono ma anche collaborazione tra circoli per condivisione di risorse tecniche perché oggi le complessità aumentano le responsabilità che ci sono dietro una regata sono superiori a quelli di un po' di anni fa e quindi la collaborazione in questo senso è fondamentale noi da genovesi direi che siamo molto interessati anche a cercare di portare più giovani derivisti a bordo delle delle barche grandi perché sono comunque esperienze tecniche fondamentali esperienze di marineria che arricchiscono anche gli agonisti delle derive quindi è uno sforzo che vogliamo fare ci sono proprio in questi giorni dei velisti giovani dello yacht club italiano in lotta per conquistare un europeo 470 a monte carlo zona anche un po così centropè giraglia eccetera mi piace perché qui ci sono anche tu come yacht club sanremo sei più che coinvolto nella nella giraglia anche a te naturalmente beppe la stessa domanda guarda io concordo quello che è stato detto finora perché è talmente ampio quello che serve per avere successo in queste manifestazioni posso aggiungere che una cosa molto interessante è il divertimento noi dobbiamo riuscire a far divertire gli equipaggi gli armatori sia in acqua che dopo regata per creare l'evento completo dunque io punterei molto su questa parte qui benissimo la completezza dell'evento la grazie questa come abbiamo detto nella prima puntata abbiamo avuto nico reggio presidente del yacht club italiano roberto mottola di amato presidente del circolo italia matteo berlingeri vice presidente del yacht club italiano e beppe zauli presidente dello yacht club sanremo abbiamo parlato di regate organizzazione qui vi dico solo una chicca quando si chiamava capri nastro azzurro sailing week per tanti anni perché non si è chiamata più nastro azzurro perché un giorno la nastro azzurro fece una ricerca di mercato e chiese che cos'è nastro azzurro e la gente rispose una regata e allora hanno detto forse è il momento di smettere di sponsorizzare la regata potremmo fare la donna fugata sailing week che farebbe piacere allo sponsor alle prossime questo sarà il salotto del processo alla regata qui alla rolex capo